punterei il dito su una cosa il socialismo scientifico ha fallito quello utopistico ha avuto successo cioè esattamente il contrario in questo ha ragione Carlo cioè laddove l'elemento spirituale era presente nella coscienza per una volontà finalizzata a valori valori di eguaglianza di libertà mediati equilibrati da un principio di fratellanza che non è un sentimento buono un buon sentimento è un sentimento di intellettivo di calcolo in cui è possibile tenere le due cose insieme senza che una prevarichi l'altra e senza che ciascuna vada per i fatti suoi la libertà da una parte e l'eguaglianza dall'altra due tiranni il socialismo scientifico è riuscito a creare una di questi due tiranni quella dell'eguaglianza come controfaccia altra faccia della medaglia del liberalismo l'estrema libertà portata senza alcun riguardo per nessun altro se non per il principio in sé un principio negativo peraltro definito da loro stessi come negativo libertà negativa nessuno mi può evitare quello che io sono libero di poter fare rimarrebbe un solo uomo in base a questo principio sul pianeta il più forte quello che ha ucciso gli altri e quindi morirebbe di conseguenza dopo poco sono nato all'Avanti da ragazzo insomma 30 anni avevamo insieme dimesso insieme tra giovani la redazione milanese che era stata chiusa nel 78 a Milano e l'abbiamo riaperta nell'84 mi pare siamo andati avanti fino al 93 cioè fino a Tangentopoli Mani Pulite a quel punto c'è stato lo scioglimento del Partito Socialista la liquefazione la liquidazione di tutto a mio giudizio una vera e propria Shoah per come è stata condotta tutta l'operazione Mani Pulite indipendentemente poi dal fatto che ci siano sicuramente stati forti elementi diciamo così di illegalità e di leicità ma d'altra parte il sistema allora era quello e la contestazione fu solo ed esclusivamente da parte nostra orientata al fatto di dire che anziché riformare un sistema si era voluto distruggere un partito che in quel momento era un partito che rispetto agli anni 70 insomma stava cercando di portare appunto un po' più di libertà nella 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 nel binomio di CPC che praticamente soffocava qualunque dinamica sia politica che sociale è uno dei primi metodi che la critica sociale propugna Turati si metteva qui a Milano a società umanitaria a impacchettare i libri per le biblioteche popolari i teatri popolari le mutue cioè l'associazionismo non ancora in forma istituzionale spesso anzi vietato dalle leggi di allora viene organizzato praticato indirizzato e il metodo è quello di far sì che queste queste erano chiamate le conquiste dei lavoratori cioè se si faceva un consorzio quella era una conquista dei lavoratori se si faceva una camera del lavoro quella era una conquista dei lavoratori spesso era vietato fare queste cose e allora il problema era far sì che la legge cioè il Parlamento liberale potesse ottenere queste erano le riforme ottenere consentire scusate volevo dire che queste nuove conquiste venissero rese legittime per poter essere a loro volta un punto di partenza per ulteriori conquiste quindi è stato un lavoro veramente molto faticoso però la logica che stava dietro a questi studi e a questo lavoro era una logica che Carlo mi ha insegnato si chiama logica lineare sicuramente devo dire che è stato un lavoro complicato appunto sicuramente complesso ma io credo che ancora alla complessità non siamo giunti da un punto di vista di sinistra sicuramente nella politica in Italia perlomeno l'Avanti riprende il primo maggio del 2020 per un anche qui per un'intuizione che diventa coscienza e volontà e quindi opera pubblicazione il giorno stesso in cui il governo Conte dichiara il distanziamento sociale e il blocco produttivo in tre quattro amici in Romagna aiutati anche dagli ex repubblicani romagnoli che ci consentono di stampare a credito usciamo con l'Avanti in Edicola facendo circoli cioè esattamente tutto il contrario di quello che era il momento che si stava aprendo con la pandemia e con il lockdown non era una contestazione delle misure in senso stretto era una prevenzione di carattere psicologico culturale sul pericolo che vedevamo maggiore che la socialità passasse come luogo comune nuovo luogo comune come un pericolo un pericolo creato da qualcosa di invisibile da cui il governo ti deve difendere l'altro diventa contagioso tu ti infetti tutte cose che possono essere vere non vere questo appartiene a tutto un altro campo su cui non voglio entrare ho le mie opinioni ma non ne voglio parlare però sicuramente da un punto di vista del terrorismo psicologico si è creato un clima ce l'abbiamo sotto gli occhi quasi da guerra civile orizzontale cioè qui la gente le amicizie si rompono in famiglia si litiga cioè qui ormai si è creata una situazione appunto in cui questo distanziamento sociale deforma il senso invece del bene comune per socialdemocrazia io intendo qualcosa che ha un'origine precedente proprio nel socialismo mazziniano che unisce le istituzioni sociali con le istituzioni politiche mazzini diceva la repubblica deve essere come una cosa propria per ciascuno in modo che ciascuno capisca che il proprio vantaggio è il vantaggio anche degli altri il vantaggio degli altri deve poter prevedere un vantaggio anche per se stessi le due cose devono andare insieme e la fratellanza è ciò che unisce questi due aspetti quello dell'eguaglianza e quello della libertà che se lasciati isolatamente a se stessi fratellanza scusate l'eguaglianza lasciata liberamente a se stessa porta a tirannide libertà lasciata liberamente a se stessa porta a tirannide la fratellanza è quella cosa che appunto crea un equilibrio tra queste due ancelle maggiori e probabilmente questo rientra anche in una capacità di pensiero di sistema appunto e non lineare che si deve adeguare nelle circostanze di volta in volta non essere mai come dire definito una volta per sempre quello che un po' si diceva dicendo i vecchi socialdemocratici il movimento è tutto la natura ci offre una sufficiente abbondanza c'è abbondanza per tutti nessuno escluso purché sia sufficiente e non superflua per alcuni a scapito di altri è una banalità ma organizzate una società in questo modo vediamo se siamo capaci di farlo con il metodo scientifico finora utilizzato si è dimostrato che non si è affatto capace di farlo anzi si creano divisioni e quindi conflitti quindi io il socialismo ritorno a definirlo come un futuro di qualità esistenziale neutopistico possibilmente realizzabile ma non in modo scientifico bensì in modo esistenziale a Grazie a tutti